geffiamo con la sabbia ciao ciao george come mai stai piangendo non trovo più il mio dinosauro più o meno il dinosauro è fatto così bene vorrà dire che aiuteremo george a trovare il suo dinosauro ehi guarda lì c'è qualcosa ehi guarda una formina mettiamoci subito all'opera facciamo un dinosauro vediamo come è uscita la nostra formina a forma di dinosauro george guarda il dinosauro è quello no non è il mio dinosauro va bene george dai continuiamo allora qui a scavare ok ehi guarda ho trovato qualcosa ehi ma questo sono delle ossa hai visto george abbiamo trovato uno scheletro deve essere lo scheletro di qualcosa continuiamo a scavare bene gli scavi sono completati ora mi serve un pennello hai visto george è il fossile di un dinosauro no nemmeno questo è il mio dinosauro capito ehi ma non è che è lui ehi george guarda allora è lui il tuo dinosauro no non è lui mannaggia chissà com'è fatto questo dinosauro ma dov'è il mio dinosauro dove è andato a finire ecco qua mi nasconderò sotto questo secchiello dai su dinosauro non prendertela con george non ti ha fatto niente dai calmo non è successo niente trovato trovato ehi cos'è che hai trovato interessante chissà cosa ha trovato ho trovato il mio dinosauro ho trovato il mio dinosauro ah ecco com'era fatto il tuo dinosauro george grazie riccardo mi hai dato una grossa mano non c'è di che george ci siamo divertiti un sacco eh abbiamo fatto delle formine abbiamo trovato dei fossili e abbiamo pure conosciuto il nostro nuovo amico t-rex come mai si chiama t-rex t-rex perché il re dei dinosauri e da oggi diventerà il mio animale domestico bene per oggi abbiamo finito di giocare ma torna presto a trovarmi al prossimo video ciao ciao